Musica Quindi dai, oggi il ragazzo del negozio è tutta quanta gente è arrivata Magari si fa l'idea e dice Se questo mi chiede L'altro mi chiede magari ti darò una cintura Ma l'amagar l'ha un thinkling Per Huge Per l'idea di Brian Una cintura o qualcosa Oh che pensa È uno buono Il ragazzo Paco Il prende il bacione Il calcolo È uno che ci ha contatti in America E uno che ci ha contatti in America È una calc incorsione Non sia bene Beh Quando vado la grazie grazie forse coraggio bravo ciao ragazzi buon lavoro ciao questo fatto che non c'è più la distinzione che vai a caso vai al buio e devi sperare che ci sia il tuo preferito c'è solo la fine infatti in inghilterra alcuni show la gente era in più perita perché aspettava daniel bryan e daniel bryan era in germania e d'altronde così loro dicono e non puoi avere rivalze per chiedere rimborsi come in america a volte devono fare perché se non c'è John Cena o sia in banca in qualche ciò che sono rotti eccetera la gente voglia rimborsi perché hanno una forza di richiamo talmente alta che la gente vuole John Cena se me l'hai pubblicizzato voglio John Cena questo che magari in Italia non piace a tutti ma in America è lott ticket John Cena lo è diventato sia in banca anche se li reclamizzi li vogliono cioè se manca Razzacrivers non c'è John Cena 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 puoi cercare di capire magari il giorno prima dove sono non c'è John Cena 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 Grazie per la visione